Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo cast, io sono Blackforce, torniamo a castare dopo un periodo che non castavo più ma avevo fatto una valanga di video e quindi non dovreste aver vertito la mia mancanza oggi ho fatto 3 partitozze, 2-3 vinte, probabilmente le userò per portarvi qualche tematica partiamo con questo pvt, 3 match tutti e 3 molto interessanti devo dire e andiamo a parlare però più di tematiche che di gameplay, magari se ci rimane qualche spazio alla fine andiamo a commentare quello che è successo anche nella mia partita oggi volevo concludere un po' il late game del game plan quindi dove eravamo partiti con un early game, quindi con la nostra opening con quello che ci permette poi di entrare in un mid game dove abbiamo la nostra transition abbiamo parlato nel video precedente un po' soprattutto per quanto riguarda il lato Terran di varie giocate che si possono fare, presa ad esempio mi sa che l'ho fatto anche per quanto riguarda le target toss oggi andiamo a concludere con la parte finale del game, quindi il late game, quindi con la composition composition andiamo proprio a indicare con questo termine l'armata, quindi come è formata la nostra armata una composition di bio, marine tank medievac, full mech queste sono un po' le composition che possiamo avere sky Terran per quanto riguarda la razza Terran per esempio cosa dobbiamo indicare nella nostra composition? i lati salienti della nostra composition sono che essa può essere in accordo o meno con il nostro opening come abbiamo detto l'altra volta, se vado a fare un'apertura di elion e poi vado a fare una giocata di bio perderò del tempo, per esempio se voglio ricercare il blue flame tempo che potete investire per ricercare lo steampack in una giocata dove prevedi un drop di marine steampackati da due medievac per esempio quindi può essere o in contrasto o seguire lo schema che abbiamo dato noi inizialmente alla partita ma un altro dato importante è quello che deve counterare quello che fa l'avversario e qui entriamo in un ambito molto delicato e molto particolare perché se pensiamo a una giocata standard non da mirror perché il mirror è un po' stronzo parliamo di un tvp per esempio come in questo caso il terna può fare generalmente un'apertura di di bio comunque per seguire con una giocata di bio standard quindi caserme eccetera io ci metto qualche mina ma giusto perché mi aiutano un po' che non c'ho le mani e il toss può fare diverse cose di solito il toss va a fare una giocata che cerca di counterare la giocata del terreno il terreno essendo per sua natura più aggressivo prende l'iniziativa durante il match e questo riguarda un po' tutte le raste a questo punto le altre raste devono reagire normalmente a quello che fa il terreno ormai siamo in dei binari se possiamo così definirli molto standard che si vanno a fare composition che counterano quella dell'avversario senza sapere cosa sta facendo l'avversario oppure abbiamo delle composition chiamiamole multifunzionale come può essere per esempio blatte per uno zerg o bio per il terreno anche perché marine diciamo che è l'unità multifunzionale per eccellenza a questo punto quindi il terreno è in mano alla partita il toss deve rispondere deve counterare quello che ha fatto il terreno quindi per esempio andrà a fare una composition una volta si faccia uno zelote se si fanno adepte chiamiamole unità di linea principale degli stalker che ci stanno sempre bene come dps poi andrà a prendere un'unità che veramente countera quello che sta facendo l'avversario che per esempio una volta erano colossi ora sono disintegratori disgregatori mi pare si chiamino le palline di energia del toss che comunque servono appunto per counterare la giocata dell'avversario in particolare marine la stessa cosa però vale a specchio perché il terreno con i suoi marauder va a counterare gli stalker dell'avversario quindi delle volte vediamo dei casi dove ci sono unità che ci stanno per forza per esempio gli stalker è difficile vedere una composition toss senza stalker perché sono una fonte proprio di potenza toss pura come per esempio il marine o il marauder per il terreno potete vedere delle composition dove non ci sono i l'eleon o le mine ma non vedrete mai una composition dove non ci sono i marine e i marauder se stiamo parlando di se parlando di bio come i tank sono il perno fondamentale di una giocata mech una volta si diceva il torre il bat benshi ma tutte queste tre unità in più si mettevano anche le benshi che appunto fusevano da dps composition abbastanza interessante perché l'avversario doveva no fare gli zergling per counterare il torre ma a questo punto subentrava l'elbat che tirava giù gli zergling in più c'era la benshi che faceva sempre del buon dps in più gli stalker servono anche come unità anti-aereo ovviamente per andare a prendere le medivac perché quando si combatte contro un terran o muta o se c'è la b oppure se c'è i viking o i liberatori o gli stalker o le fenizi comunque devi fare perché ti serve qualcosa che spari per aria quindi abbiamo visto che la composition è una parte fondamentale del di starcraft ma a mio parere si può cercare di fare qualcosa in più cioè specialmente i toss per esempio possono cercare di fare o gli terra con la sky terra però ormai queste composition sono talmente tanto insediate dentro il metagame che devono arrivare per forza delle patch chiamiamole sbilanzate che nerfino tantissime unità per fare in modo che ne subentri un'altra in diverse patch abbiamo visto unità messe praticamente fuori gioco da questa patch perché pensiamo al liberatore e il tor cioè a un certo punto il tor non aveva più senso di esistere e ovviamente questo contro contro lo zer con le muta ha dato una grossa mano ai giocatori terran quindi la composition deve essere si deve prestare a quello che noi sappiamo fare meglio se ci chiamo meglio di bio ci chiamo meglio di mac ovviamente andremo ad utilizzare una composition più di un tipo più di un'altra anche se anche in questo caso una composition di bio a parità di abilità è più efficiente più efficace di una composition di mac e questo è il meta che impone delle lezzi e allo stesso tempo dovremo però andare a counterare quello che fa l'avversario se noi andiamo a fare una giocata di bio contro un avversario che fa ht colossi questa roba qui e stiamo entrando in un late game come l'avversario butta ht noi buttiamo ghost per cercare di counterare come lui fa colossi noi cerchiamo di buttare viking come lui fa disintegratore andiamo a ridurre i marine questo vale un po' per contro tutte le razze nel late game i marine scompaiono sempre nel tvt potrebbero rimanere una giocata marine tank medievac ma anche se andiamo contro un terra non a giocare full bio lui va full mech in late game avremo ovviamente una composition marauder intensive per dire per fare un po' di di esempi quindi non ho giocato per niente male anche rivedendo un po' la partita come come stanno andando questo fatto che faccio lavoratori sempre in gran quantità mi permette anche di fare questo giocato usare gli sccv come photo tank a quel punto c'è l'unità range e posso fare quello che mi pare e quindi dall'altra parte iniziamo deve counterare quello che fa l'avversario a volte servono proprio dei switch completi se l'avversario sta facendo marine l'avversario sta facendo marine e noi stiamo facendo marauder ce la prendiamo nel fiocco ok molto meglio andare a fare uno switch a tank a elion meglio tank però e a questo punto la cosa importante anche è seguire una linea di switch cioè perché parecchie volte si vedono dei terran che si ammazzano di micraggio e qualsivoglia altra azione da pro giocando di bio contro colossi contro ultra invece di andare a fare una giocata di mech perché sei arrivato a un certo punto della partita in un late game dove hai utilizzato tempo e risorse della tua partita per ricercare unità e potenziamenti per una determinata tipologia di composition e a quel punto ha veramente poco senso ma soprattutto poco efficacia andare a fare uno switch a a tank a mech 0-0 contro delle ultralische 14-14 quindi molto meglio cercare dei marauder e andare a produrre marauder in gran quantità limitare l'uso di marino oppure gosse ora dopo lì sono diciamo scelte che uno fa personalmente mi trovo molto meglio con i marauder piuttosto che andare a fare uno switch a benshi che sei proprio in un altro ramo di tech quindi a volte si vedono queste partite dove specialmente dal lato terra diciamo che le composizioni del terra sono abbastanza limitate per efficienza e non per fantasia del giocatore il giocatore può fare quello che gli pare può anche fare una composition raven medievac e mine quello che gli pare però poi ovviamente sarà meno efficace a parità di abilità di una composition marine tank medievac marine tank medievac marine marauder medievac quello che vi pare e questo ha un bel vantaggio sul mio avversario stavo pensando se vi dovevo dire qualcos'altro mi pare di aver analizzato un po' tutti i punti in questione fatemi un po' sapere quello che pensate voi della composition riguardante il late game come andrebbe affrontata quali sono le vostre composition preferite secondo ovviamente di che razza giocate andiamo a considerare un attimo su quello che sta sostenendo nella partita piace sempre castare è sempre molto bello andare a narrare le zesta di un giocatore costruire una storia attorno a questo giocatore che è un po' l'eroe della nostra partita e che prova a fare azioni per sconfiggere l'avversario a questo punto faccio un triple prong se vogliamo parto con due medivac per lato per andare a droppare e in più parto anche con un push frontale qui ovviamente la cosa che mi crea è cercare di non prendersi le torrete nella faccia a droppare dove non ci sono torrette a questo punto sia che andiamo sulle sonde che andiamo sugli upgrade che andiamo su quello che vi pare sugli edifici faremo comunque del danno al giocatore avversario e ci possiamo limitare al nostro attacco frontale a micrare quello a schivare le tempeste dell'avversario che ancora qui non ha ricercato quindi doveva morfare e faremo dei danni assurdi anche se noi nello sconto frontale siamo in netta inferiorità rispetto all'avversario ovviamente non ci overcommittiamo quindi non entriamo di cattiveria a perdere tutte le nostre inetà teniamo lì se l'avversario splitta entriamo forti se l'avversario invece vuole rimanere lì a presidere quella zona subirà danni nelle due basi dove ci sono i drop che ragazzi per oggi è tutto vi ringrazio per la visione noi ci vediamo con il prossimo cast ciao a tutti